Il piccolo Enea è tornato a casa dopo il trapianto di midollo osseo all'ospedale di Padova. È tornato a San Giorgio in Bosco ad accompagnarlo, come racconta il sindaco Nicola Pettenuzzo sui social. Gli uomini della polizia di Stato con la loro Lamborghini, infatti, lo hanno riportato da mamma Cristina che a dicembre ha donato il midollo per salvare il suo piccolo. Ora quella battaglia è vinta. Bravo piccolo grande Enea. Grazie a tutti.